inizio tagliando le patate a dadini quindi da qui la taglio prima metà poi la taglio per il lungo dopo di che vado a tagliare le patate dopo aver tagliato le patate taglio lo scalogno a rondelle ne utilizzo due di scalogno perché sono un po piccolini infine taglio due gambi di sedano eccoci pronti dopo aver preparato tutti gli ingredienti metto a riscaldare in una pentola dell'olio extravergine d'oliva con lo scalogno che abbiamo tagliato a rondelle adesso aspetto che si scaldi un po l'olio appena l'olio sarà un po caldo aggiungo un po di pomodoro io avevo già in frigo questo pomodoro pelato che sono andata a schiacciare con la porchetta ma giusto un cucchiaino potete anche aggiungere le patate il sedano amalgamo e lascio che si insaporiscano un pochino per qualche minuto coprendo dopo qualche minuto dopo aver lasciato insaporire bene le patate vado ad aggiungerti dell'acqua oppure del brodo fino a ricoprire le patate e le cipolle amalgamo a questo punto vado anche a sistemare di sale amalgamo ben tutto coperto per 20-25 minuti una volta pronte le patate una parte delle patate sono andate a toglierle perché le frullerò quindi farò di questa parte farò una crema invece quella restante parte vado ad aggiungere invece qui ho aggiunto dell'acqua e adesso a questo punto ho spezzettato delle linguine e vado ad aggiungere la pasta la pasta non è tanta sono solo 100 grammi di pasta adesso aspetto che la pasta cuocia nel frattempo andiamo a frullare qui nel boccale vedete ci sono le altre patate che praticamente sono già come se fossero un purè però siccome voglio che diventi una crema vado a frullarle ulteriormente a fine cottura della pasta vado ad aggiungerci la crema di patate e scalogno amalgamo bene e per finire vado ad aggiungerci dei dadini di formaggio io sto usando del formaggio piccante se voi volete potete utilizzare la provola avalgamo bene tutto per far sì che il formaggio si sciolga ed eccola qui la mia pasta e patate con provola super cremosa e filante e pronta per essere gustata guardate che meraviglia vi assicuro che è una vera delizia e niente ragazzi io spero che questa ricetta vi sia piaciuta se provate a farla scrivetevi tutto nei commenti oppure taggate i ministri con le vostre foto io vi mando un bacio a presto